Davide Silva e Yuri Bacoli, gli eventi videoludici di Latina sempre in mano alla loro sapiente regia. Cosa ne pensate di questa iniziativa che si sta verificando qui al bar Il Vinile? Il primo evento, sono molto emozionato, ci sono veramente tanti ragazzi, tanti nuovi volti e speriamo di far bene non solo questa volta ma anche di cercare di riconfermare questi ragazzi anche per i prossimi eventi che si faranno nel passare del tempo. Yuri Bacoli, oltre a queste iniziative anche i gironi del campionato provinciale, quali sono adesso i risultati più immediati a breve termine? Sicuramente la partenza di altri due gironi, di cui uno al Don Luca guidato da Alessio Vidali e uno al 24 Milabaci appunto da David, ci sarà l'organizzazione della Coppa che prevederà i migliori di tutti i gironi, se queste sono le premesse possiamo lavorare bene. Invece una parola su una delle iniziative nuove, la creazione del ranking provinciale. Il ranking provinciale che ci farà capire chi è il più forte giocatore a FIFA di Latina, che stiamo cercando di fare questo ranking, in prossimità ci saranno delle novità e delle notizie su questo ranking provinciale. In ultimo e poi lasciamo la parola ai giocatori al gioco, ringraziamenti particolari? Sicuramente a Cesare e al suo locale che è appunto il bar vinile che ci ha permesso appunto di organizzare questo evento, anche per questo sono felicissimo per la risposta che i ragazzi hanno dato appunto a questo evento. E diciamo anche a Roberto Martini e alla sua Broca del Sport che ci segue sempre in queste iniziative. Allora un ringraziamento per tutti quanti.